Il prossimo incontro L'Organizzazione Mondiale della Sanità informa che dallo scoppio dell'ultima epidemia di Ebola, datata a dicembre 2013 al 20 ottobre scorso, vi sono stati 4.835 morti su un totale di 9.917 casi di contagio confermati, probabili e sospetti notificati in 7 paesi. Liberia, Sierra Leone e Guinea sono le nazioni più colpite, con 4.826 decessi su 9.892 casi, un malato in Senegal e 20 gli episodi in Nigeria con 8 defunti. In entrambi gli stati, dichiarati liberi dal virus, l'emergenza è finita. Ma Ebola, che ha anche un focolaio diverso in Congo, varca ormai i confini africani, registra i primi casi di contagio negli Stati Uniti e in Spagna, mette alla prova i paesi europei che iniziano ad accogliere e assistere alcuni pazienti infettati nel continente nero e cresce l'allerta. Grazie a tutti i nostri spettatori,